La tutela dei miei cittadini per me è fondamentale, io sono molto determinata perché credo che questo sia l'impegno che devo esprimere come sindaco e che voglio esprimere. Esalazioni e cattivi odori nei comuni di Falconara e della Vallesina. Primo passo fare fronte comune e chiedere un incontro al nuovo prefetto di Ancona, Saverio Ordine. È quanto emerge dall'incontro che si è svolto in comune a Falconara. La prima cittadina, Stefania Signorini, ha chiamato a Castello la collega di Chiaravalle Cristina Micucci, Damiano Bartozzi e Andrea Tittarelli, sindaco e vice di Monte Marciano e l'assessore all'ambiente di Monte San Vito Piero Medi, in rappresentanza del sindaco Thomas Cillo. Obiettivo sollecitare le autorità e gli riposti affinché possano arrivare a capire l'origine e il contenuto di queste esalazioni che si sono intensificate nell'ultimo periodo con un record mai raggiunto prima. I prossimi passi saranno rivolti agli organi tecnici per un impegno concreto sul territorio come ARPAM e ISPRA per monitorare e verificare la qualità dell'aria anche con i laboratori mobili e campionare le sostanze inquinanti laddove non arrivano le centraline di rilevamento Oltre al summit, in questi giorni il comune di Falconare è stato impegnato anche nelle aule di tribunale, costituendosi parte civile nel processo ai vertici API dopo l'incidente al serbatoio TK61 del 2018. Le ipotesi di reato sono di disastro ambientale e altri reati in materia e sono in 17 a rischiare il processo tra vertici della raffineria e tecnici. Prossima udienza 8 marzo davanti al GUP. Ci siamo costituiti parte civile, io tra l'altro avevo querelato e ho sposto querela anche come semplice cittadina, poi c'è stata la querela da parte della giunta di cui facevo parte come vice sindaco e poi ci siamo costituiti parte civile quando, diciamo nella fase mio primo mandato, proseguiamo in questo percorso.